Riparte la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Mercatone 1 in difesa dei posti di lavoro, 1800 in Italia e un centinaio e tre punti vendita in Abruzzo. Per oggi infatti in programma lo sciopero per l'intera giornata con presidio a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, in concomitanza con l'incontro che dovrà discutere lo scenario apertosi con la richiesta di concordato preventivo da parte di Scherner Holding, la società che solo otto mesi fa aveva acquistato il gruppo. Sì, oggi saremo a Roma per chiedere spiegazioni per questo incredibile accadimento, ossia che sostanzialmente solo otto mesi fa, tramite tutte le manifestazioni che sono state fatte, tramite tutti gli accordi che sono stati presi, il Mise ha dato gestione alla nuova azienda di rilevare Mercatone 1 per iniziare ad aprire una nuova fase. Tanto è vero che in questi otto mesi noi stavamo facendo trattative, facciamo incontri affinché anche i lavoratori che sono stati fatti fuori nella passata amministrazione straordinaria potessero essere integrati. E invece addirittura, quando si dice appunto la realtà che supera la fantasia, nonostante una nuova gestione, solo dopo otto mesi il concordato preventivo chiesto dalla nuova azienda. Sono tre i punti vendita nel Presidente D'Ambruzzo? Sì, sono tre i punti vendita, Colonnella, Scernetti Pineto e Sambuceto, per un totale di più di cento dipendenti, che a questo punto, possiamo dirlo, rischiano il posto di lavoro. Stavolta veramente vogliamo chiedere chiarezza e spiegazioni, perché credo che non sia possibile nel 2019 nel Paese Italia, che dopo otto mesi, quindi di una nuova gestione, dopo che il Ministero ci aveva garantito, che aveva affidato la nuova gestione a una realtà solida, la nuova gestione chiede un concordato preventivo per una ricapitalizzazione che sarebbe dovuta avvenire in maniera naturale e non sotto concordato preventivo. Quindi noi vogliamo chiedere non solo spiegazioni all'azienda, ma soprattutto al Ministero dello Sviluppo Economico per sapere come è possibile, dopo solo otto mesi di amministrazione straordinaria, che siamo tornati indietro, anzi in realtà abbiamo fatto più di un passo indietro.